Ciao a tutti, questo è il nuovo motocoltivatore comprato su AgriEuro, Ginko R710. È arrivato con una cappatrice da 80, io per il mio utilizzo l'ho ridotto a 70, togliendoli due stelle. È un motocoltivatore molto compatto, molto maneggevole e soprattutto molto potente. Ho acquistato anche ruote a gabbia, arato, assolcatore retropresa, assolcatore singolo e il suo portaprezzo. Adesso lo mettiamo in moto, leva a start, un po' di acceleratore. Grazie. 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 Grazie.